ciao mtv sono sam e questo è il mio closet tour momento serietà bentornati sul canale oggi speciale 5.000 iscritti anche se siamo già a 6.000 passa e vi ringrazio e vi farò vedere qualche pezzettino un po più carino perché se lo dovessi fare tutto probabilmente servirebbe un video da 30 minuti e niente tirato già giù alcune giacche quindi se vogliamo partire da quelle così le togliamo di mezzo e poi facciamo il resto partiamo con le giacche questa qua è probabilmente la mia preferita nella mia collezione sia perché vintage che come sapete indosso un sacco e vedrete è veramente raro trovare un pezzo così con questo lavaggio usato in questo modo qua con un sunburn del genere come vedete questo qua era il colore originale della giacca questa è stata diciamo bruciata dal sole a suon di essere usata questa è una detroit anni 90 molto molto bella poi c'è questa santa fe che anche questo potrebbe sembrare vintage ma guardando questo qua si ci rende conto che è recente infatti della collezione dell'anno scorso non avevano fatte tinte in capo in questo modo qua di tre colorazioni se non sbaglio ho preso questo qua perché mi piace parecchio il viola e mi piace un sacco anche questo modello qua un po diverso anche se preferisco la detroit perché non ha l'elastico sotto poi c'è questo bomber di alix molto figo reversibile come potete vedere da qui anche se ancora non ho iniziato a lavorare per autostrade per l'italia quindi per ora arancione non lo metto è però molto bello hanno ripreso gli alfa industries perché è un alfa industries col taglio degli anni 90 quindi molto largo manica molto larga corto e stretto in fondo ed è della collezione del 2017 18 però sempre attuale per quanto mi riguarda perché lo uso tutt'oggi e secondo me può per un pezzo da avere un bomber bello bisogna averlo nella collezione niente l'unica differenza dagli altri alfa e che ha questo e le scritte stampate sul retro questa giacca qua questo nylon qua di stone island per supreme che ho usato quando quando ero nell'esercito qualche anno fa pezzo che non si vede spesso in giro è tuttora in vendita sul mio winter che trovate qua in realtà perché l'ho usato un po ma non è più il mio genere di giacca e quindi piuttosto che lasciarlo lì appeso a prendere polvere preferisco che lo prenda qualcuno e che l'utilizzi poi passiamo a una categoria un po secondo me inutile che sono i vest questo qua va beh mio preferito in assoluto chi mi segue su insta se non lo fate fatelo per favore perché sennò che cazzo mi guardatevi da fare e niente questo qua ce l'ho da anni e lo uso da anni è bellissimo secondo me il colore perfetto di card questo qua di calvin klein della collezione di raff simons di qualche anno fa se lo indossate non vi vede nessuno tranquilli c'è proprio vi vimetizzate in mezzo alla gente perché è una roba proprio sobria cioè davanti si dietro un po meno e poi questo qua vintage di nike del non c'è scritto ma mi pare che sia del 97 come vedete ha ancora l'etichetta nike ed era stato fatto per una collezione di una jordan 7 se non sbaglio sembra armani jeans ma in realtà è jordan se non lo sapevate ora lo sapete poi flanelle flanelle per me durante la mezza stagione sono un must queste due sono vintage ovviamente tutte imbottite queste due le ho prese nel negozio che vi faccio vedere ogni tanto nelle mie storie a genova che è proprio un boutique e questa qua invece di stussi l'ho presa l'anno scorso è super pesante c'è tipo una giacca non so se si nota questa nylon jack di prada in collaborazione con adidas che mi era stata mandata l'anno scorso con il rilancio della forum molto bella insieme al pezzo di sotto poi questo fliss di entire studios che in realtà non è mio ma è di luca solo che l'ha comprato gli è arrivato gli piaceva ma sapeva che non l'avrebbe indossato quindi me l'ha lasciato a fino a tempo debito e niente quindi grazie bro secondo me è super figo ci ho già fatto un po su insta sicuramente ne farò un altro a breve e niente molto bello adesso possiamo passare le t-shirt possiamo passare le t-shirt guarda i traslochi devo fare per registrare un video faccio per voi quindi iscrivetevi al canale vi siete iscritti? aspetto un attimo fatto bravo arrivo partiamo con le t-shirt ho detto non le tiro tutte fuori le faccio vedere così e poi niente iniziamo partiamo benissimo è bandana T capital quanto mi riguarda una garanzia sia a livello di qualità che di fit molto spesso sono super fighi questa qua è molto molto bella soprattutto perché l'ho presa al 50% quindi ancora più bella stussi cactus plant free market collezione dell'anno scorso questa sempre cactus plant free market il merch per l'alum di kidcadi man on the moon 3 poi un paio ne vedrete tantissime robe di 545 e riven perché per fortuna ho due amici fortissimi in quello che fanno 545 545 queste sono quelle dell'anno scorso c'è anche la blu da qualche parte human made sono queste qua human made anche essendo made in japan ha una qualità molto molto bella infatti il cotone non so se si nota da qui ma è molto figo anche lavandole anche utilizzandole rimangono sempre bellissime e morbidissime travis merch quello di virgil del 2018 per astroworld vape di ghiacci molto figa questa qua me l'ha preso un mio amico al dubai mall allo store di jordan questo qua del merch di trovare di tanto merch oltre al vintage comunque qua lil wayne carter 5 questo qua è un merch fatto da aaron preston molto figa mi piace un sacco questa roba qua fatta tipo graffiti aerografia eccetera basic riven, basic 545, basic 545 cream, basic riven, basic grey riven, basic wash black riven questa non c'entra niente con i miei amici questa qua è easy season 3 e l'ho dovuta far tagliare perché era tipo lunghissima e non sono mai riuscito ad utilizzarla ma è tipo, è spessa come una felpa, non è felpata ma è spessa come una felpa quindi è praticamente un peso stupido che ti impedisce di utilizzarla questa qua di jack mousse macchiata, non la uso, stop altro basic riven, marrone questa carina, cacchio plant free market del merch di jesus is king, di Kanye Kanye per favore fai uscire più merch perché ogni volta non ne sbagli mezza indovinate un po' basic 545 nera indovinate? basic riven nera ce l'abbiamo, siamo coperti qua ragazzi Aaron Preston, questa qua carina, anche questa l'ho fatta acroppare Essentials, Fear of God, anche questa qua l'ho fatta acroppare merch Travis questa qua if you know you know back to back degli warriors nel 2018 ero a San Francisco, ho visto che era due delle finals sono andato a comprarmi questo, poi sono andato alla parede a Oakland questa qua è probabilmente, la metterò a fianco nell'altra stanza che non so se lo sapete ma ho una t-shirt che mi ha autografato in persona, Steph Curry quando sono stato là, non nel 2018 ma nel 2015 e questa penso che finirà la fianco poi questa qua, se mi seguite su Insta avete visto che quest'estate mi ha preso la scimmia e ho iniziato a tagliare le maniche alle t-shirt che non usavo più questa è stata una di quelle che era del workshop che hanno fatto a Londra con Viagil, questa qua del merch di Drake di Scorpion questa qua con Labo Jordan Ovio questa sempre merch di Drake di Scorpion con Moptize qua davanti e Rappalat qua dietro merch Travis collabo con McDonald's Easy Season 5 se non sbaglio non so, Tommy poi mi cazzia se sbaglio quindi mi devo correggere un attimo scusate, devo controllare questa è una delle mie t-shirt preferite sia a livello di fit che a livello di materiale perché ha un cotone morbidissimo, bellissimo anche questa l'ho fatta croppare perché era lunghissima perché avevo preso un XL non sapendo che Easy Season ai tempi bastava prendere una S e lo vedrete con una felpa là in fondo questa merch Glow in the Dark Tour di Kanye questa qua è assolutamente un grail per tantissimi è una t-shirt del 2007 molto bella condizioni ottime qua c'è un po' di vintage t-shirt questa qua molto stile in mercatino indiano molto figa questa qua Nascar molto bella del 94 che mi era stata regalata tra l'altro da Luca sia questa che questa qua anche questa qua Nascar perché lui non lo utilizzava questa qua dei Carolina Panthers molto carina questa qua Simil Vintage dei Ninn che ho utilizzato un sacco quest'estate perché è molto figo il fit questa qua di Rive ma vabbè già sapete questo qua ha un mood di vita c'è proprio un statement questo me lo tatuare sulla schiena se non fosse che ne ho già fatto un altro Pop Smoke merch di Faye Vintage con tutte le scritte di Uthers che se non conoscete cercate su su Google Vintage Arley Davidson anche qui secondo me non si sbaglia mai con le Vintage di Arley se si trovano quelle giuste secondo me sono quelle con le grafiche migliori e se trovate un lavaggio del genere siete a posto questa anche molto figa Vintage con diciamo qua davanti c'è scritto Famous Guitars quindi praticamente ci sono tutte le chitarre dei chitarristi più famosi della storia ingegno l'ennesima Vintage Chevrolet se mi seguite l'avete sicuramente vista molto bella poi ce n'è un paio Wu-Tang molto carine una di Tupac non sono Vintage ma sono se non sbaglio sono Renewal Vintage quelle di Urban Outfitters questa qua di Gosha molto figa di qualche anno fa che ho fatto croppare ma probabilmente ho esagerato e infatti sembra cropped e non la uso tanto purtroppo Gallery Death questa anche questa secondo me è un altro grail che non uscirà mai da questa casa è una 2XL non la utilizzerò mai più ma questa qua è del merch di Birds in a Cerve di Travis la prima collavo che ha fatto con Virgin era stata venduta solo a Parigi c'è scritto qua alla Zenith de Paris quando ha fatto il tour molto bella Stussy Nike Jordan Vintage Polo Dell anche questa sarà del 97 98 non mi ricordo col cartellino tenuta da Dio c'è questo dettaglio fighissimo della Zip col Jamman molto bella RSVP Gallery questa qua presa a Chicago questa qua di United Standard in collabo con Virgil avevano fatto sia questa che la Longsleeve con le scritte qua è una Longsleeve del Super Bowl 54 dei 49ers che purtroppo hanno perso perché mi ha preso la mia amica Nausicaa quando è stata là un paio di Stussy di qualche anno fa per qualche anno fa intendo tipo 2014 2015 una roba del genere Bait Karat American logo questa qua dei Nigos questa è una Longsleeve molto particolare che probabilmente non avrete mai visto in vita vostra e vi starete chiedendo cosa ci fanno le mani e il 6 a fianco al logo dei Raptors perché questa qua era stata data alla Drake Night una notte appunto dedicata a Drake dei Toronto Raptors che appunto avevano invitato Drake stesso a cantare allo stadio quindi qua all'Air Canada Center nel 2016 e un mio amico me l'aveva presa là e me l'aveva portata da Toronto St. Pablo come dicevo non sbaglia mai i cani con il merch perché è sempre attuale Stussy Cactus questa qua di quest'anno la famosa coreana non coreana che ho indossato in Sardegna quest'estate camice di seta qua che se avete visto il video dei miei acquisti estivi avrete già visto perché sono quasi tutte qui e lo Santos bellissime un paio di camice questa questa qualcuno se ne ricorderà questa è stata la prima crew neck fatta da Luca non so se vi rendete conto del salto di qualità che ha fatto da qua a dove è adesso cioè una roba veramente assurdo come la prima ho la seconda che già era meglio Capital Smile Crew Neck molto figa questa qua è quello che vi dicevo di Leasy del motivo per il quale veste enorme questa qua è una S a me sta leggermente grande Crew Neck Basic Nike Lab niente di che Fleece Raven questo qua mi sono pentito di non averlo preso sia blu che grigio perché lo uso un botto e lo userei tutti i giorni letteralmente qua c'è il mio piccolo spazietto Arterix felpa fatta a fliss diciamo quindi col pelo dentro che uso prettamente per andare in palestra un 400 grammi che se non sbaglio e se volete acquistare si chiama Kole si K-O-L-E questo qua è un 400 grammi che voi potete mettere sotto i gusci quindi tipo lo ZSL che ho qua o il Beta AR questo qua qua sotto sta benissimo la sopra come vedete ci sono le ultime due Varsity quindi la nera e la Brown di 545 le altre due sono le prime che sono uscite i due Astro Puffer di Riven chi se li ricorda è uno G di Riven poi c'è l'Alex Puffer adesso non ve li sto a tirare giù ma tanto a breve li vedete indossati in alcuni post Napa Piri Martin Rose e là in fondo c'è un Balenciaga che mi ha regalato l'anno scorso Luca il mio compleanno ma che non mi va in nessun modo perché è veramente piccolo e quindi sto valutando se a sto punto venderlo quindi se avete una M potrei avere un deal per voi ci vediamo sul mio video presto partiamo con le felpe e questa anche questa qua felpa pazzesca che ho da un sacco di anni di Diamond una collab che aveva fatto con Travis all'epoca di Rodeo questa qua super figa e penso che sicuramente non uscirà mai dalla mia collezione Basic di Nike questa me la vedete sicuramente spesso addosso di Earl fit pazzesco cotone super morbido lavaggio bellissimo questa qua Essentials Fear of God niente di che questa qua della collabo con Joe Fresh Goods e Converse molto sobria questa qua però mi piace un sacco l'ho presa in outlet tipo pagandola 30 euro una roba del genere black on black 545 la versione vecchia black grey di 545 questa vintage di Russell che usa un botto Russell che sono diventate super famose grazie al buon Kanye questa è della stessa collezione della giacca che ho fatto vedere prima di Karart grey 545 questa non so se sarà già uno spoiler o sarà già droppata però comunque questa sicuramente sarà la felpa che userò di più quest'inverno già lo sapete bottone sul cappuccio bellissimo grammatura assurda super pesante super comoda super morbida super tutto la sto già usando un sacco questa anche l'avrete già vista nel mio video 545 questa qua se non sbaglio di si di Jack Mousse prima di prendere quella di Luca perché adesso oramai questa qua se ne sta bella che qua e non si muove più l'azzurra di 545 la blue royal di 545 questa gran pezzo di Capital avevo anche la Kruneck ma se ne è andata ieri e ho venduto la Kruneck perché era tanto grande questa qua invece la userò sicuramente ancora molto molto bella questa boh ve lo devo dire che cos'è lo sapete lo sapete che cos'è ho sbaglio beh questa qua non bisogna anche parlarla la felpa più bella e più copiata nel senso della storia un'altra felpa molto bella o Gaiga Wave di Earl questa molto bella ho tolto i cordini che erano tipo arrivavano fino a qua tra l'altro questa l'ha messa recentemente anche Justin Bieber grazie a quello che mi hai copiato non mi hai detto niente grazie Brown di 545 questa Camo di Aaron Preston anche questa in vendita Pine Green 545 tra l'altro appesa bene bravo spendile bene le felpe bravo spendile bene le felpe e qua due felpe a cui tengo un sacco questa qua mi è stata regalata dal mio cugino nel 2010 la prima volta che sono stato in America perché era la sua proprio la sua personale perché lui è stato a Oregon University e me l'ha lasciata a me mi ricordo ancora che è un XL americana in realtà la vedete se fosse tipo una 3X il gol è riempirla probabilmente dovrei diventare come Andrea Presti per riempirla no niente non riempirò mai però è molto bella ci tengo un sacco qualche anno dopo ho trovato anche questa stessi anni come vedete dall'etichetta e niente sono molto affezionato a questa università basic champion americana niente di che e partiamo con i pantaloni questi probabilmente li conoscerete bene Midnight Studios sicuramente tra i miei 3 pantaloni preferiti nella mia collezione 5 for 5 questi qua sono gli ultimi il camo i più belli secondo me questi qua sono entrambi del mio amico Gregorio V. Goghi su insta usa diciamo base Levis vintage sono tutti pezzi unici e sono molto fighi perché come potete vedere la lavorazione e tutto sono veramente veramente belli un denim di ice cream col classico cane sul pacco un paio di Bale non so se avete già visto il mio vintage ma sono lì perché sono una 31 vestono in realtà 32-33 slim e non li utilizzo più Levis lavaggi chiari sui vintage secondo me sono in assoluto i migliori questo qua è il 501 questo qua è il 507 la differenza è che questo qua ha la zip e ha proprio il fondo a zampa non cade dritto ma cade proprio si allarga in fondo quindi tipo con scarpe più chunky tipo non lo so Yeezy 700 piuttosto che elvy trainer o boots sta veramente veramente da dio un altro vintage di Karart single knee molto bello macchiato questa colorazione tipo carta da zucchero che in realtà era un blu All of Fame denim di Riven anche questo qua un denim che ho utilizzato un sacco l'anno scorso che utilizzerò sicuramente tantissimo che questo inverno double knee 545 neri questo pantalone molto figo di acupuncture acupuncture non ho mai capito come si pronuncia è molto figo si zippa tra l'altro quindi diventa anche shorts unica pecca di questo pantalone è che ha l'elastico in vita e non ha diciamo i passanti per la cintura poi qua cosa abbiamo Riven cargo già sapete sono quelli dell'anno scorso questi sono i 20 pockets 2.0 quindi la versione rivisitata diciamo questo qua è leather buffalo dell'anno scorso di Riven anche questo qua non vedo l'ora che venga freddo per utilizzarlo questo qua double knee brown di Karath 20 pockets marrone Riven anche questo qua un must 20 pockets olive questo qua è l'1.0 Dickies io ho sia verdi così che beige sono 873 il fit migliore di Dickies questo qua è un tie dye di Dries Van Noten molto bello qualità bellissima anche il cotone che usano è pazzesco si sa però anche questo qua è un pantalone che sto utilizzando poco e che probabilmente potrei vendere vecchio 20 pockets beige l'ultimo che ha fatto qua gallery depth molto belli unica pecca che purtroppo sono leggermente giusti li avrei voluti un po' più un po' più over double knee di Karath questo non è vintage l'avevo preso 4-5 anni fa questo carpenter barra double knee barra non so come descriverlo di Capital con i boots che riprendono il colore delle cuciture sta molto 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 bene un double knee di Karath bianco poi c'è questo qua di nylon di cos'è? a cold wall che uso quando piove e questo qua di Arteryx che non mi ricordo come si chiama il modello però lo uso anche questo o quando piove o per andare in palestra o comunque così niente raga vi ho fatto vedere bene o male quasi tutto ce ne sarebbe ancora tanto da far vedere anche tipo quella roba lì non so se cioè servirebbe un video a parte solo per i cappellini che ho muoviamoci ad arrivare a 10 così anzi in realtà datemi ancora un po' di tempo visto che non sto comprando così tante sneakers così posso aggiornare un po' la sneaker collection e i 10.000 vi farò vedere quelle vi ringrazio ancora tanto per il supporto sono contento che i video stiano piacendo che il canale stia funzionando e tutto vi ricordo di iscrivervi al canale seguirmi sul mio insta lasciate un like e ci vediamo al prossimo video peace ciao ciao